A tre anni di distanza dagli arresti del 25 luglio del 2011 che azzerarono la giunta di Spoltore, arriva in aula il processo cabina di regia sul malaffare nell'urbanistica e nell'edilizia, al comune allora amministrato dal sindaco di centrosinistra Franco Ranghelli. È proprio l'ex primo cittadino assieme all'ex presidente del consiglio regionale Marino Roselli, il principale imputato nel procedimento in capo al pubblico ministero Gennaro Varone, che conta in totale 10 imputati. Davanti al collegio di primo grado del tribunale di Pescara, preseduto dal giudice Antonella Di Carlo, nel primo giorno di udienza sfilano 13 testimoni della lista del pubblico ministero. I consulenti torinesi del PM per quanto riguarda l'accordo di programma sui cimiteri, gli uomini della forestale che hanno condotto le indagini a partire dal 2009, anno dell'arrivo in procura dei primi esposti e i quattro tecnici incaricati dall'aggiunta precedente a quella Ranghelli di redarre la variante al PRG comunale. Proprio i quattro professionisti, Vincenzo Cerritelli, Pasquale Felicetti, Tiziano Cetrano e Fabio Marulli, vincitori di un bando di concorso apposito, hanno raccontato ai giudici di una riunione convocata nell'ottobre del 2009 dal sindaco Ranghelli a mezzo telegramma, nella quale, a sorpresa, l'ex primo cittadino avrebbe chiesto loro di dimettersi dall'incarico assegnato perché non avevano più la fiducia dell'amministrazione che aveva altresì deciso di affidare la redazione del PRG agli uffici tecnici comunali e ai consulenti esterni indicati dai partiti che supportavano la sua maggioranza. Nel caso in cui avessero accettato la proposta, raccontato Cerritelli, l'amministrazione sarebbe stata loro riconoscente, non specificando però come il sindaco intendeva ricompensarli, nonostante una precisa domanda rivolta al test dalla difesa dell'ex primo cittadino di Spoltore. I tecnici comunque non si dimisero e continuarono il proprio lavoro. Hanno raccontato di aver avuto difficoltà nella redazione della variante, di non aver ricevuto i documenti necessari ed aggiornati, nonostante i solleciti via lettera agli uffici tecnici, ma di aver comunque portato a termine il lavoro di studio preliminare nei tempi previsti sei mesi dall'incarico. Il piano preliminare di variante al PRG però non venne mai discusso e mai votato, nemmeno dall'attuale giunta quella del sindaco di Lorito, che sarà ascoltato nelle prossime udienze e che è stato anche autore di alcuni esposti da cui sono partite le indagini. Motivazione della mancata approvazione del piano preliminare del PRG? Mancavano e mancano tuttora i soldi per gli studi geologici prescritti per legge, ma per la procura questo modus operandi del sindaco Ranghelli sarebbe esemplificativo della cabina di regia che indirizzava i lavori pubblici al comune di Spoltore, che proprio negli anni 2000 ha avuto un periodo di forte espansione urbanistica.